Ben ritrovati, siamo su Bioblu, nuova intervista, nuovi aggiornamenti che arrivano da Malta. Perché che cosa è successo lì nell'isola di Malta? Sono praticamente bloccati, ecco questa è la parola corretta da utilizzare in questo caso, più di 120 ragazzi perché stanno nel corso dei giorni aumentando, si pensa addirittura che siano adesso 150, un gruppo di ragazzi appunto rimasti bloccati nell'isola di Malta. Questo perché si tratta di ragazzi, tra questi ci sono anche dei minorenni italiani, che si erano recati lì nell'isola per delle vacanze, in alcuni casi si trattava di viaggi studio della lingua inglese. Ad un certo punto uno di questi ragazzi facente parte di questo corposo gruppo è risultato positivo a seguito di un tampone e allora lì è scattata la quarantena obbligatoria per tutti, obbligatoria anche per ragazzi, compresi anche degli italiani di cui vi racconterò fra pochissimo, che però facendo poi loro stessi il test del tampone erano risultati comunque negativi. Ma la legge vuole, sembrerebbe quella dell'isola di Malta, che scatti comunque la quarantena obbligatoria. Quindi i ragazzi che dovevano far ritorno nel loro paese, in Italia, sono stati bloccati lontani dalle loro famiglie e dalla loro casa. Una situazione certamente difficile anche perché, come ci verrà raccontato direttamente dalla testimonianza di un genitore, di una delle ragazze che si trova ancora lì nell'isola di Malta, sono stati comunque trattati in maniera un po', diciamo, con poca attenzione quantomeno perché soprattutto anche nei primi giorni sono stati costretti a rimanere chiusi 24 ore nelle loro stanzette e nutriti con un panino e solamente una bottiglietta d'acqua. Allora, parliamo di quello che sta accadendo a Malta e soprattutto della reazione delle autorità italiane insieme all'Avvocato Mauro Sandri, che saluto e ringrazio per essere tornato su BioBlu, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. E come vi annunciavo, è qui con noi in collegamento anche la mamma di una ragazza di 16 anni che si trova purtroppo in quarantena, bloccata lì nell'isola di Malta, la signora Adriana. Ben trovata, grazie per essere intervenuta qui. Buonasera, buonasera. Senta, allora, partiamo, vorrei partire con una domanda all'Avvocato Sandri perché dai giornali comunque si rassicura sulle condizioni di questi ragazzi, no? Si dice che stanno bene, la stessa Farnessina in un comunicato dice che i ragazzi stanno bene però vorrei partire da lei, Avvocato, perché lei sta anche difendendo alcuni genitori, insomma difendendo forse non è il termine giusto, sta comunque, è in contatto con alcuni genitori di questi ragazzi bloccati lì nell'isola. Qual è realmente la situazione rispetto a quella che viene raccontata comunque dalle autorità italiane e dai giornali? È così? Stanno bene? È tutto ok? Diciamo che è una situazione che è esattamente contraria rispetto a quella che viene raccontata. Vivono una situazione di isolamento che tra l'altro è determinata da una gravissima anomalia dal punto di vista giuridico perché l'origine di questa segregazione che io non esito a definire un vero e proprio sequestro di persone e me ne assumo la responsabilità è determinata dalla, ancora una volta, falsa rappresentazione della validità dell'esame PCR. Vale a dire sono stati ritenuti contagiati alcuni minori e sulla base di questo esame PCR sono stati poi posti in isolamento tutti i loro coetanei. Il problema è che noi abbiamo posto all'attenzione della Farnesina, dell'Ambasciata Italiana, del Consolato e dell'autorità Maltesi ma anche della Corte Penale è altra, vale a dire il governo maltese si è disallineato dai protocolli che l'OMS ha dettato e che vincolano tutti i paesi aderenti tra cui anche Malta, si è disallineato dai protocolli scientifici in materia di definizione di caso contagiato. Perché? Perché è avvenuto che il concetto, la definizione di caso contagiato sia stata determinata da un solo esame PCR. L'OMS il 21 di gennaio ha dettato un protocollo specifico che vincola tutti gli stati aderenti in forza dei quali un solo esame PCR non è sufficiente per la definizione di caso contagiato. Occorre ripetere la PCR con altra strumentazione rispetto a quella precedentemente utilizzata e munirsi di un certificato medico che attesti che effettivamente il soggetto presenta sintomi. Il 25 giugno l'OMS è ancora intervenuta facendo presente che non è necessario e non è opportuno il tampone sugli asintomatici, quindi che è assolutamente illegittimo quanto è avvenuto e sta avvenendo a Malta in questo istante perché sono reclusi coattivamente dei minori che non hanno alcuna sintomaticità al Covid. È un quadro di una illegalità gravissima che avrebbe richiesto un intervento celere, durissimo da parte dell'autorità italiana. Io faccio immaginare a tutti i nostri ascoltatori cosa sarebbe accaduto se più di 100 adolescenti o americani o francesi o tedeschi o britannici avessero subito lo stesso trattamento che stanno subendo gli italiani. Probabilmente saremmo già alle minacce belliche. A questo si aggiunge che vi è l'inerzia totale delle autorità consolari che sono state stimolate solo dall'intervento effettuato ieri sera dall'onorevole Cunial, la quale ha telefonato personalmente al console chiedendo un intervento immediato di assistenza perché risulta che questi ragazzi addirittura siano rifocillati da dei volontari, nemmeno dalle nostre autorità presenti sul luogo. Siamo di fronte ad una situazione che è veramente gravissima e che a mio parere dovrebbe portare alle dimissioni anche del ministro degli esteri. Tra pochissimo ritorneremo a parlare anche del ruolo delle autorità italiane, in particolare del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Comunque mi sembra di aver capito, o meglio ho capito dalle sue dichiarazioni, visto che è intervenuto anche più volte su BioBlu trattando l'argomento che il problema è a monte, cioè noi stiamo limitando, restringendo le libertà personali sulla base di strumenti poco attendibili. Detto questo voglio passare alla mamma di Desiree, appunto questa ragazza di 16 anni che è partita lo scorso 20 giugno per questa vacanza studio a Malta e adesso si trova lì segregata da sola in una stanza. Prima di tutto le chiedo, signora Adriana, come sta? Immagino che la situazione sia difficile e ci racconti un po' tutto il percorso, cioè quando è stata, gli è stato detto dalla scuola in che modo che doveva rimanere là, non poteva ripartire, far ritorno a casa? Beh, Desiree è stata bloccata venerdì, quindi le modalità sono state un trauma, perché ovviamente nessuno se l'aspettava, perché i ragazzi hanno fatto tutti un tampone per poter entrare a Malta, quindi erano tutti negativi. E tra l'altro quest'isola era stata presentata come covid free e le scuole ci avevano assicurato che avrebbero tenuto atteggiamenti adeguati al periodo, mentre invece questo si notava che non stava succedendo. Quindi Desiree avrebbe dovuto rientrare domenica, venerdì lei e altri compagni sono stati chiamati in una hall, nelle prime ore non dicevano come mai, dovevano stare chiusi lì, poi hanno saputo che erano stati considerati contatti diretti con un ipotetico ragazzo risultato positivo. Positivo perché? Perché lui avrebbe dovuto ripartire, quindi si era sottoposto al test. Quindi questa hall sarebbe servita per far cercare, far trovare un collocamento a tutti questi ragazzi. Non si trovava, non si trovava, la ragazza mi chiamava piangendo, nessuno ci vuole, adesso noi cosa facciamo? Insomma è stata una situazione pesante quel giorno. Io mi rendo anche conto che forse, anzi sicuramente nessuno era preparato a questa situazione e questo è ancora peggio perché vado avanti. Comunque alla mezzanotte di venerdì finalmente vengono diciamo non collocati in un albergo anti-covid ma riportati nello stesso albergo in cui avevano alloggiato. Quindi non in quarantena, anche se secondo loro loro dovevano stare in quarantena, ma bensì nelle stesse camere con le stesse compagne non considerate in quarantena. Camere tra l'altro vabbè non ripulite da giorni e giorni ma questo non importa. Per i primi giorni anche se Desiree fino a domenica doveva comunque essere sotto la tutela della scuola, diciamo sono stati trattati un po' come non lo so, non voluti di sicuro, che anziché portare il solito pasto mettevano vicino alla porta un panino al tonno, una bottiglietta di acqua e qualcosina in più. Per fortuna lei è riuscita a reperirlo dalle compagne che comunque erano ancora in stanza con lei. Poi due ragazze se ne sono tornate a casa, erano due francesi, ma poi è rimasta con Desiree fino a ieri, quindi fino a martedì, un'altra ragazza non in quarantena. Io vorrei far capire chi ascolta lo scombussolamento che può dare un evento del genere. Capisco che non sta succedendo nulla forse in apparenza di così grave, ma è il non sapere niente, è il fatto di non essere avvisati da nessuno che mette in un'ansia pazzesca. Quindi io ho sentito i telegiornali dove dicono che la Farnesina, il Consolato, erano in contatto con noi. Non è vero, non è vero. Io sono riuscita ad avere il primo contatto ieri mattina dopo un mail di minacce. Pretendevo perlomeno un certificato che mi dicesse sì, Desiree è in quarantena. Cioè qualcosa che mi garantisse che è vero che fossi in quarantena, anche perché capite bene che mi sembrava un paradosso in quarantena con altre ragazze e che comunque volevo sapere chi si prendeva la responsabilità di mia figlia. E di mattina finalmente è arrivato questo certificato. Scusi Adriana, quindi non è la scuola adesso che si sta prendendo carico della minore? Allora, no, da oggi in poi le scuole a Malta sembra che abbiano avuto l'ordine di chiudere. Però in questi giorni mi racconta Desiree che i ragazzi comunque della scuola EC, che forse non devo dirlo, comunque si stanno attivando per tenere compagnia continuamente ai ragazzi anche perché c'è un bambino di dieci anni e altre ragazzine di dodici anni che peraltro non sono state bene, che hanno ricevuto le prime cure dopo giorni, quindi non credete quando vi dicono che tempestivamente si sono occupati di loro. I primi giorni sono stati piuttosto brutti. Adesso pian piano le cose si stanno sistemando ma non c'è ancora chiarezza, non c'è assolutamente nessun tipo di chiarezza e non c'è comunicazione con i genitori. Ci sono delle mail, adesso dicono che forse ci penseranno loro la scuola proprio ad organizzare dei voli di rientro, anche se noi tutti temiamo che non rientreranno perché avendo fatto questa confusione all'inizio, avendo mescolato positivi con negativi, saranno ben pochi a riuscire ad avere un tampone negativo. Io spero di no, però la paura di tutti ormai è questa. Ma quindi quando dovrebbe ritornare sua figlia Desiree? Mia figlia Desiree dovrebbe tornare in Italia il 22 luglio, ma in realtà questa data l'hanno data a tutti. Tutti devono ritornare il 22 luglio, anche questa cosa non si capisce. Io ci spero tanto. Che poi quindi immagino che lei debba continuare oltretutto a pagare l'alloggio a sua figlia che deve rimanere la chiusa. Io questo ancora non lo so. Io quel famoso pomeriggio in cui sono stati isolati in questa hall d'albergo, prima di sapere cosa stava succedendo, mi è arrivata una mail presentandomi il conto, dicendomi che la quarantena sarebbe costata tanto. A oggi non ho più, siccome ovviamente ho risposto che stavano facendo una bruttissima cosa, tanto più che non sapevano dove avrebbe alloggiato, a oggi non ho più ricevuto queste richieste. Ma sinceramente sarà un pensiero che affronteremo dopo. Intanto è importante sapere comunque, signora Adriana, che ci sono dei legali come l'avvocato Mauro Sandri, insieme al collega Giulio Marini, anche lui ospite da noi spesso su BioBlu, che stanno cercando di smuovere la situazione e hanno inviato una mail all'ambasciata italiana, al Consiglio d'Europa, all'ambasciata italiana a Malto ovviamente, e al Ministero degli Esteri. Ci dice che cosa avete scritto in questa mail, avvocato? Aspetti che non la sentiamo, le chiedo di riniziare adesso, provi? Ecco, abbiamo posto proprio il problema della legittimità di questo comportamento delle autorità maltesi, perché tutti sono tenuti prima di affermare il concetto di caso contagiato a rispettare i protocolli che sono stati imposti e questi protocolli abbiamo chiesto alla Farnesina e al console italiano di precisare che venga accertato se siano stati o meno rispettati. Abbiamo avuto una prima risposta, bisogna dire che è consolato ovviamente di fronte anche alle problematiche che si aprono, perché io assisto alcuni familiari, tra cui anche la signora Adriana e chiaramente noi non è che ci fermeremo alle lettere. Chi ha sbagliato dovrà assolutamente pagare sia in sede civile che in sede penale. Quando sono stato contattato la signora Adriana stava andando dai carabinieri a presentare un esposto. Ovviamente adesso abbiamo alzato il tiro. Quindi da questo punto di vista abbiamo messo in mora tutte le autorità affinché venga rispettata la legge, niente di più di quello che ci aspettiamo che ogni Stato e ogni governo dovrebbe fare. La carenza abnorme delle autorità italiane che è veramente inaccettabile è la vera ragione di questa reclusione. Io non colpevolizzo le autorità maltesi, sono abitanti di una piccola isola sperduta nel Mediterraneo, possono avere tutti i timori del mondo. Chi è veramente responsabile di questa situazione è il governo italiano. Stiamo discutendo da tempo sulla carcerazione più o meno legittima di un solo soggetto che sta in Egitto e per questo abbiamo mobilitato addirittura le massime cariche istituzionali dello Stato e oggi aprendo i giornali del mainstream la notizia che 150 adolescenti italiani siano sequestrati a Malta non è nemmeno presente. Questa è una situazione che vogliamo assolutamente riassolvere. Vogliamo riportare i ragazzi in Italia velocemente. L'onorevole Cugnal si sta battendo in maniera assolutamente incisiva. Io credo che metterà in campo tutte le possibilità che ha come parlamentare di ottenere il risultato di far presto riunire i ragazzi alle loro famiglie. Ma ovviamente la questione non finirà con il ritorno. Signora Adriana, intanto concludiamo questo aggiornamento da Malta con una notizia positiva perché so che intanto la comunità italiana il residente lì a Malta ha deciso di operarsi e di aiutare questi ragazzi. Sì, è stato un gesto commovente ma sono intervenuti proprio in quei due giorni dove c'era proprio la carenza di cibo. Loro adesso mangiano i ragazzi, comunque i pasti sono serviti normalmente dall'albergo e sinceramente non so bene da chi arrivino ma sicuramente dall'organizzazione della scuola e dell'albergo. Ma questi ragazzi italiani a Malta i primi giorni hanno sopperito con delle pizze, delle brioche, comunque i ragazzi erano tutti felicissimi. Sono i ristoratori, i ristoratori italiani di Malta, si sono radunati e hanno fatto questa cosa, è stata bellissima, non finiremo mai di ringraziarli. Comunque hanno attivato anche la volontà dell'albergo stesso o della scuola di muoversi, di dare dei passi un pochino più decenti ai ragazzi. Ecco. Allora complimenti veramente a questo gesto, è bello sapere che ci sono delle persone che ancora si interessano anche delle altre. Ovviamente per qualsiasi aggiornamento su sua figlia e sul gruppo di ragazzi che ancora si trovano lì a Malta, non esiti a contattarci perché vogliamo ovviamente sapere quando farà ritorno. Grazie signora Adriana per essere stata su Dioglu. Saluti tanto sua figlia. Non è sola, non è sola, quantomeno noi cerchiamo insomma di mantenere alta l'attenzione per quello che possiamo fare. Ringrazio anche l'Avvocato Sandri per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Questa è l'informazione di Bioblu, rimanete sintonizzati sul canale 262 perché l'informazione continua. Grazie. 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 Grazie.